Sindaco, per la Certosa di Padula, la ventunesima edizione di Luci della Ribalta, un sito storico che diventa anche un luogo dove fare formazione, formazione dedicata alla musica ma anche tanti concerti, dunque la valorizzazione del territorio attraverso le interculture. Sì, partiamo con il progetto Luci della Ribalta, siamo alla ventunesima edizione. Quest'anno strategicamente abbiamo deciso di non concentrare gli eventi nel periodo estivo dove già abbiamo una grossa affluenza, ma di farlo nel periodo invernale proprio per cercare di portare gente, visitatori, turisti nel periodo magari di minore affluenza. Speriamo di promuovere, valorizzare, continuare a promuovere e valorizzare. Noi come amministrazione comunale stiamo lavorando un poco a 360 gradi. La settimana scorsa siamo stati a Matera perché noi con Matera, Matera capitale della cultura a livello mondiale del 2019, siamo stati a Matera perché noi abbiamo un protocollo di intesa fra città di Matera e Certosa di Padula, comune di Padula. Abbiamo incontrato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, saremo a Parma l'anno prossimo perché Parma il 2020 è capitale italiana della cultura. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Vigevano perché l'anno prossimo sono i 500 anni della nascita di Leonardo. Quindi stiamo cercando di lavorare a diversi livelli. Bisogna dare atto anche che nell'agenda politica della regione Campania per la prima volta la cultura e il turismo rappresentano uno dei punti cardine dell'agenda politica di questa amministrazione regionale. Di questo va dato atto sia all'assessore regionale Corrado Matera e sia al governatore. Tanti sono pure le iniziative a livello regionale come il prolungamento di Frecciaross, come Italo che ferma davanti alla Certosa. Diciamo che stiamo lavorando un poco tutti per aumentare l'offerta turistica. Che cosa significa? Noi gli ultimi dati del 2018 li presenteremo a metà febbraio. La Certosa di Padula è uno dei siti che sta trainando la crescita turistica culturale. con un aumento di circa il 40% di visitatori paganti. Questo significa nuovi posti di lavoro, questo significa anche per le attività ricettive che sono in crescita. Quindi continuiamo a lavorare. Io un ringraziamento particolare lo vorrei fare a voi della stampa. perché anche la stampa promuovendo, parlando quotidianamente, settimanalmente, dei siti importanti della provincia di Salerno ci stanno dando una grossa mano per questa crescita. In realtà se lavoriamo tutti in sinergia i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Filomena Chiappardo, assessore alla cultura, nonché anche alle politiche giovanili. Per il comune di Padula, con luci della ribalta, si punta proprio ai giovani. In questa ventunesima edizione sono diverse le masterclass, ma anche i laboratori che puntano a formare i giovani ad un nuovo modo di fare musica senza però dimenticare quello che è stato il passato. Assolutamente sì. Noi riceviamo un'eredità importante. Siamo arrivati alla ventunesima edizione e luci della ribalta per Padula è un marchio riconoscibile, riconosciuto ovunque. Insieme al direttore artistico Antonello Mercurio però abbiamo puntato all'innovazione. Per cui accanto al concerto tradizionale che in verità quest'anno non si terrà incertosa ma nel centro storico di Padula abbiamo insieme creato tantissimi eventi, seminari, laboratori, masterclass che coinvolgono, come hai già anticipato, direttamente i giovani. Però ci tengo a sottolineare anche un'altra cosa. Il programma di quest'anno si apre anche a quella che è la visione che il comune di Padula ha negli ultimi anni con una sottolineatura forte sugli obiettivi di legalità e di prevenzione della corruzione che stiamo portando avanti. Tanto che il 15 marzo, in occasione dei 110 anni della morte di Gioe Petrosino, avremo anche un importante appuntamento che appunto si inserisce in questo contesto. E in più, per la prima volta, luci della ribalta si unisce a quello che è il progetto di valorizzazione che abbiamo denominato Padula Sistema Museo. Per cui è tutto un insieme, si sta procedendo in maniera unitaria affinché la valorizzazione degli spazi di Padula, innanzitutto della Certosa, dei musei civici, del Battistero di San Giovanni in Fonte vengano valorizzati e promossi insieme ad eventi di altissima qualità e di altissimo spessore culturale come appunto quelli di luci della ribalta. In continuità con quanto costruito lo scorso anno per luci della ribalta, la Certosa di Padula, concerti, masterclass dei laboratori ma anche un convegno sulla legalità. Tutto però viene tenuto insieme dal concetto della intercultura, perché le culture si intrecciano tra di loro partendo dal passato e arrivando fino ad oggi. Sì, assolutamente, centri il tema di questo festival che spero possa essere ancora oggetto di studio e di sviluppo per i prossimi anni. L'interculturalità ma anche la trasversalità dei linguaggi, cosa di cui mi occupo da tantissimi anni anche e soprattutto come compositore, è ovviamente uno dei temi fondamentali della mia crescita di artista e niente, l'occasione propizia la Certosa, Padula, questa straordinaria comunità e in continuità con quanto ho fatto lo scorso anno continueremo a lavorare sulla formazione e sui momenti di svago, quindi la musica dal vivo. Vorrei sottolineare una cosa importante, quest'anno siamo riusciti ad accaparrarci la presenza del più importante coro della cattolicità dopo la Cappella Sistina, che è il coro dell'Istituto Pontificio di Musica Sagra e per questo ringrazio il Monsignor De Gregorio. Saranno i nostri ospiti il 7 aprile e potremo godere, insomma, è ovviamente un appundento di nicchia perché loro faranno un repertorio non polifonia ma il canto gregoriano che è qualcosa che ormai penso nessuno più ha la possibilità di ascoltare, insomma, quindi diventa un'occasione veramente unica. E poi ovviamente l'incontro dedicato a De Andrè con questo dialogo a tre voci con Alfonso Amendola, Dario Gizzotto, Giovanni Vacca e poi c'è la serva patrona che ho scritto e che è stata rappresentata al teatro ma in una lettura nuova e inedita di Pasquale De Cristoforo con due splendide voci, Nicola Ciancio e Maria Cenname e la regia appunto di Pasquale De Cristoforo poi ancora l'opera Lab quindi lavoreremo su repertorio lirico sempre con Pasquale De Cristoforo quindi faremo sempre letture di regia e praticamente questo lavoro di formazione con gli allievi moltissimi dei quali sono del conservatore di musica di Salerno ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare il mio direttore Ima Battista e dicevo, sarà un'occasione per poter poi mettere in scena come mise en spas questi momenti della lirica italiana del gran canto